Le emozioni, il coraggio, la forza, le paure sulla salute dei propri cari, l'impegno costante accanto a chi aveva più bisogno, la sofferenza di chi è stato solo, la passione per il proprio lavoro, il timore di non tornare mai più alla normalità. C'è tutto questo nel video realizzato dalla Cisla Palermo Trapani, ideato dal suo coordinamento donne, dal titolo Nel cuore dell'emergenza, le donne della Cisla Palermo Trapani si raccontano. 16 lavoratrici delle federazioni, enti ed associazioni del sindacato dei territori di Palermo Trapani raccontano il loro lockdown, le difficoltà vissute, il loro impegno che non si è mai fermato, le loro sensazioni da donne, madri, lavoratrici, sindacaliste. Tante le figure professionali rappresentate, tutte in prima linea durante l'emergenza, un'infermiera di pronto soccorso, un'operatrice del settore igiene ambientale, una dipendente di un supermercato, un'insegnante di scuola dell'infanzia, una giovane dipendente del settore elettrico, una del settore edile, una pensionata, la bancaria, un'impiegata dell'università e di un'azienda metalmeccanica, e poi le operatrici del CAF Palermo, del patronato Inas Cisla Palermo, dell'Anolfo Trapani, e la presidente Anolfo Palermo, la responsabile comunale Cisla di Valderice e una dipendente della sede Cisla Trapani e responsabile Sicet.